Veramente allarmante così il Presidente del Tribunale di Catanzaro, Rodolfo Palermo, ha definito la situazione nel suo ufficio nel corso dell'audizione in Commissione Parlamentare Antimafia. Un quadro che provoca ripercussioni sul lavoro della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Nicola Gratteri. Non a caso la parte delle dichiarazioni riguardanti l'ufficio del GIP e del GUP è stata secretata. È in questo ufficio, infatti, che confluiscono le richieste delle misure cautelari che partono dalla DDA. Quello di Catanzaro è un tribunale distrettuale capofila di altri sei tribunali distribuiti nelle province, oltre che nello stesso capoluogo di Vibo Valenza, Cosenza e Crotone, due terzi del territorio dell'intera Calabria, insomma. Il nostro ufficio, ha detto il Presidente Palermo, può contare su un organico di 52 unità. C'è un presidente di tribunale, cinque presidenti di sezione e 46 magistrati. Poi ci sono i giudici onorari, che sono 26, ma abbiamo una scopertura importante anche in questo settore, perché ce ne sono sei in meno. Al momento, nel tribunale di Catanzaro, sono vacanti 11 posti e la situazione potrebbe andare a peggiorare, perché di recente è stato pubblicato un bando per i trasferimenti di giudici di primo grado. A Catanzaro sono state presentate ben nove domande di trasferimento, quindi, entro breve tempo, se dovessero andare in porto tutte e nove le domande di trasferimento, ci troveremo di fronte ad una scopertura complessiva di 20 posti su 52. Il Presidente del Tribunale ha fatto poi riferimento al Tribunale del Riesame, sul quale si riversa addetto non solo l'attività della DDA e della Procura Ordinaria del Capoluogo, ma anche quella di tutte le altre procure su cui ha competenza, ovviamente riguarda la Mezzia Terme, Vibo Valenza, Castrovilla, Le Paola, Crotone e Cosenza. Una situazione, insomma, difficilissima se si considera che gli otto giudici che compongono il Tribunale del Riesame, compreso il Presidente di sezione, fronteggiano l'attività di ben 80 procuratori di tutto il distretto. Sul Riesame, inoltre, si riversano le richieste di misure di prevenzione personali e reali delle sette procure del distretto, di quattro questori e della DIA.